Nelle scorse settimane abbiamo avuto diverse interlocuzioni con il commissario straordinario dell'autorità portuale e con il segretario generale uscente in merito all'apertura estiva della cittadella fieristica in attesa del pronunciamento degli organi competenti che chiariranno definitivamente a chi spetti la titolarità l'autorità portuale ha chiesto alla nostra amministrazione la disponibilità a lavorare insieme ad un bando per le attività estive invito accolto naturalmente con favore che ci ha portato a formulare delle proposte di modifica del bando predisposto dagli uffici delle autorità che avrebbero consentito un percorso congiunto e paritetico nell'interesse della cittadinanza non ci vanno giù leggeri gli assessori Pino e Alagna sul mancato utilizzo della cittadella fieristica per le manifestazioni estive nonostante su alcuni punti si sia trovato un accordo su altri così non è stato spiegano i due esponenti della giunta dal basso ed in particolare per quanto concerneva la predisposizione di un bando a firma congiunta alla luce della contestazione della titolarità attualmente in corso che ci avrebbe consentito di mettere nero su bianco la determinazione di trambiglienti a lavorare insieme pur partendo da posizioni opposte il profilo culturale degli eventi ammissibili e l'utilizzo da parte dell'amministrazione per un numero preciso di giorni da concordare di spazi e strutture per la realizzazione di iniziative fino all'ultima interlocuzione avvenuta qualche giorno fa spiegano i due assessori abbiamo ribadito la disponibilità a proseguire in un percorso di condivisione che tenesse per conto delle nostre richieste dispiace che alla fine l'autorità portuale abbia deciso di non procedere all'emanazione del bando in ogni caso in coerenza con quanto sopra precisano Pino e Alagna manifestiamo fin da adesso l'impegno assoluto per continuare a rendere fruibili e idonei per l'organizzazione di iniziative culturali tutti gli spazi da noi gestiti quali ad esempio ville, piazze, strade pedonali, forti o la stessa passeggiata a mare nel frattempo però la fiera resta chiusa